Musica Palla al piede, attenzione al francese che serve Pellicanò, palla Musica Numero 6, pronto Giorgio Gagliardi Gagliardi la sua conclusione e c'è il gol Una magica nera Invece è Toniato che calcia però a ritroso con la cava che prova la bomba dalla lunga distanza In area groviglio di uomini parte il calcio d'angolo, ci arriva Sambe E col gol di Falun Sambe, aveva ragione Milena che oggi aveva pronosticato C'è un lancio, attenzione in contropiede per Ibe che controlla la palla, attenzione la palla sfugge a... Gagliardi Sì Uno Sì La destra a cercare Daniele Rocco che sguizza via, vediamo Rocco che supera due giocatori, ha dato grande freschezza a Rocco, adesso sul pareggio, parte in questo momento Gagliardi, la sua conclusione è il gol Gagliardi 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 Gagliardi